Quattro studiosi molisani tra i protagonisti del III Congresso Internazionale di Medicina Biointegrata che si svolgerà a Palazzo Carpegna a Roma da domani a domenica. Tra loro Franco Mastrodonato, direttore sanitario della Domus Medica di Bagnoli del Trigno, direttore scientifico dell'IMEB, l'Istituto di Medicina Biointegrata, docente del corso di perfezionamento in medicina biointegrata all'Università d'Annunzio di Chieti e docente del corso di medicina naturale presso l'Università Tor Vergata di Roma. Ma tra le grandi firme di origine molisane anche Aldo Esposito, nativo di Isernia, fisioterapista della Nazionale Italiana di Calcio, ex fisioterapista di Juventus e Cagliari, attualmente dirigente di un centro in provincia di Torino. Carlo Massullo, originario di Bagnoli del Trigno e specialista in medicina dello sport e docente presso la scuola di osteopatia e medicina manuale, Simoc, e presso la scuola di omotossicologia, IOT. Noto però anche per i suoi meriti sportivi come campione olimpico di Pentatron a Los Angeles nel 1984 e argento alle Olimpiadi di Seul nell'88, mentre nell'86 è stato campione del mondo individuale a squadre. Originario di Ururi è invece Giovanni Occhionero, chimico farmaceutico, docente del corso di perfezionamento in medicina biointegrata dell'Università di Chieti, esperto in fitogenomica e metabolismo. Il congresso è organizzato dall'IMEB, l'Istituto di Medicina Biointegrata, che da circa dieci anni opera in ambito scientifico e culturale, promuovendo eventi, pubblicazioni, studi, ricerche, e soprattutto nel campo della medicina naturale di quella biointegrata in particolare. Il tema dell'incontro è oltre l'integrazione Medicine and Lifestyle, è prevista anche la partecipazione di decine di studiosi da tutta Europa, tra loro anche il guru dell'anti-aging Thierry Hartog. Molto interessante si annuncia tra gli altri l'intervento della dottoressa Stefania Meschini, ricercatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità, che sta conducendo uno studio sul prunus spinosa, ossia il trigno, arbusto autoctono monziano. La medicina biointegrata è una scienza che, interessandosi dell'uomo inserito nel suo ambiente, vuole elaborare un sistema di integrazione tra le diverse forme di medicina naturale e tra queste e la medicina convenzionale.